Buonasera alle istituzioni, buonasera agli sponsor, buonasera alla stampa, buonasera a tutti i presenti. Buonasera e benvenuti alla diciassettesima edizione di Casa Sanremo, una serrata davvero speciale quella di stasera. L'ho anticipato Vincenzo perché abbiamo iniziato due giorni prima, quindi una settimana che si allunga e questo era un po' un esperimento dell'ideatore, del fondatore, anche un po' visionario e tra un po' ci racconterà il perché. E poi buonasera, ringrazio, inizio da Maria Pazzo Iurado, presidente della fondazione Scolas Occurrentes Italia, buonasera al sindaco, buonasera a Madeus, l'ideatore Vincenzo Russo Lillo. Tu hai inventato Casa Sanremo 17 anni fa, intanto io volevo sottolineare, non l'ho detto, che stasera oltre ad aver anticipato l'apertura di Casa Sanremo ci sarà un momento storico, un momento storico per Casa Sanremo e tra un po' ve lo racconteremo. Ma io so che sei molto emozionato. Ci puoi raccontare? Sono tante le novità di quest'anno. Ce le puoi raccontare? Sono emozionato perché al di là del fatto che il 17esimo anno è un anno abbastanza impegnativo perché l'anno prossimo daremo la patente a questa casa, quindi sarà maggiorenne e avrà dimostrato come nel 2008 questa idea, era un'idea folle ma tanto folle non era. Abbiamo stretto un bellissimo rapporto con la città, in alcuni momenti anche ruvido i rapporti con le persone che non ci credevano, ma abbiamo avuto la fortuna di avere tante persone che ci hanno creduto e ci hanno dato la possibilità di arrivare oggi dove siamo. Sono emozionato per quello che accadrà tra qualche istante e sono felice perché c'è Amadeus, perché mi ha dimostrato in questi anni sempre la vicinanza. C'è un rapporto, secondo me, di grande stima, spero, reciproca. Da parte mia riconosco in lui un grandissimo professionista che non ha bisogno di essere decantato in una serata come questa e che ha dato la possibilità anche a Casa Sanremo di essere quella che è, perché cinque anni fatti anche in momenti difficili, che poi semmai ricorderemo, sono stati cinque anni complicati, complessi anche nei momenti della pandemia e noi eravamo qui. E quello lo devo anche a chi ha creduto, perché l'unica persona che ha messo piede in Casa Sanremo, oltre le 120 persone che lavoravano, è stato lui e ci ha dato dimostrazione della vicinanza in quel momento. Io ancora mi emoziono per quel 2021. E ringrazio tutti, la stampa, le persone, gli sponsor che ogni anno credono in questo progetto. Vincenzo, quali sono le novità di quest'anno di Casa Sanremo? Allora, come dicevamo prima, scherzando, ma non tanto, noi abbiamo iniziato prima per aprire questo nuovo momento. Noi crediamo molto nel fatto che questo festival sia molto pieno in questa settimana e invece va allungato. Quindi, secondo me, due settimane di festival sono provocatorie, ma per i prossimi amministratori può essere anche un momento per far crescere l'economia di questa città. Quindi, se Amadeus decide... Guardando me? Sì, sì, io guardo te. No, perché invece di finire alle tre del mattino potremmo iniziare una settimana prima. E poi, soprattutto perché credo che la città abbia voglia proprio di avere tante iniziative spalmate. Quindi, quello che abbiamo fatto quest'anno qui dentro è quello di aprire un piano terra che non è stato mai aperto, che abbiamo chiamato Casa Sanremo Underground, ed è un esperimento in cui porteremo all'interno tante iniziative, compresse quelle di Polizia di Stato, con i giovani, con le scuole, per incontrare durante la settimana del festival appuntamenti sociali. Manteniamo tutto quello che è il palinzesto ufficiale degli altri anni. Ringrazio Veronica Maia che saluto, è accomodata, prego, almeno per un saluto veloce sul palco, che condurrà uno dei contenuti di Casa Sanremo, che è l'Italia in vetrina. Buonasera a tutti, per me è un po' di anni che sono accanto a te, a Casa Sanremo. Casa Sanremo è il festival nel festival, è una grande squadra ed è anche famiglia. Mi piace sottolineare questo aspetto e sono felice di farlo in qualche modo parte. Vincenzo, hai realizzato l'impossibile in questi 17 anni. Casa Sanremo ormai vive di eventi dalla mattina a notte fonda, altro che dopo festival, ma la cosa più grandiosa l'hai realizzata in città, nella città, a partire... E quella, ne parleremo tra qualche stanza. Esatto, insieme al green carpet, insomma, tutta Sanremo è festival. Buon lavoro a tutti, noi ci vediamo domani con l'Italia in vetrina. Buona diretta. Grazie. E quindi un palinzesto fatto... Facciamogli un applauso a Veronica. E quindi abbiamo un palinzesto di iniziative che partono alle 9 e mezzo del mattino, andiamo fino a tardanotte, seguendo anche da questa sala, dalle altre sale il festival in diretta, abbiamo la giuria dei giovani, degli adolescenti che è qui con Radio Immaginaria, che voterà come ogni anno il brano preferito dai teenager e tante iniziative sociali e siamo felici quest'anno di ospitare i ministeri, i carabinieri, la Polizia di Stato e tanti progetti che sono legati a chi è più sfortunato e chi nella vita ha avuto meno di noi e noi cerchiamo di dare voce, soprattutto a chi voce non ha. Sicuramente, Vincenzo, per quello che ogni anno riesce a organizzare all'interno di Casa Sanremo, ogni anno almeno per quello che chiaramente è la mia esperienza in questi cinque anni, questo è il quinto, ho visto sempre una crescita e poi, come diceva Vincenzo, diciamo che essere in una Sanremo così piena di gente, di festa, di gioia, di allegria, è una casa Sanremo che, come dire, parallelamente organizza sempre cose molto interessanti dopo essere usciti da un periodo drammatico solamente pochi anni fa, insomma non pensavamo di poter arrivare a tutto ciò. Ce l'abbiamo fatta grazie a chiaramente le persone che abbiamo salutato, grazie al Sindaco, ma la città di Sanremo, a Vincenzo, perché poi se si riescono a realizzare delle cose uno può avere un'idea, può essere visionario, pensare a qualcosa che magari non si è mai fatto oppure magari si faceva ancora 30 anni fa, 40 anni fa, quando io ragazzino venivo a Sanremo, vedevo una Sanremo in festa, serate, discoteche, locali, eccetera, eccetera, cosa che poi non si è più fatto. Ecco, per me l'obiettivo appena arrivato nel 2020 era portare Sanremo così come la vediamo quest'anno e così come l'abbiamo vista anche l'anno scorso, che era una città fantastica in festa all'interno dell'Ariston e anche all'esterno. Quest'anno probabilmente è la perfezione da questo punto di vista, ha ragione il Sindaco quando dice che la festa è anche chi non ha il biglietto è felice, conosco persone, ma non solo ragazzi, quello come dire, lo do, non dico per scontato, ma so che migliaia di ragazzi sono già qui, ma arriveranno nei prossimi giorni, ma anche adulti che pur non avendo il festival si godono la festa della città di Sanremo con tantissimi eventi, qua a Casa Sanremo e poi in tutta la città. Quindi grazie al Sindaco, grazie alla città, grazie al Comune di Sanremo, a Vincenzo e a tutti voi ovviamente, perché Sanremo si ama. Questo lo dico con sincerità, ma voce del verbo amare, non ama inteso come ama il mio. Quindi Sanremo si deve amare, grazie, io vi auguro buon divertimento e non vedo l'ora che possiate ascoltare le canzoni in gara. È sullo stravolgimento della scaletta perché sappiamo che dobbiamo far subito. Mi piace, sai che con la diretta bisogna stravolgere tutto. Assolutamente, assolutamente. Se Vincenzo presenta a Sanremo finiamo alle 6 di mattina, io te lo dico. È quando finisce le 4.20.